Ciao ragazze, ciao ragazzi, buongiorno! Oggi è domenica e mi sono appena truccata e sto amando questo rossetto di Banana Beauty e questo rossetto liquido opaco e si chiama Me Time ed è un bellissimo nude chiaro neutro Non ho messo ombretti oggi quindi ho solo tantissimo mascara che come al solito è Sky High di Maybelline Amo, amo, amo questo mascara, lo trovo fantastico e oggi non ho neanche insistito tanto, ho messo una passata leggera e guardate che roba ragazzi Poi come fondotinta ho usato sempre quello di Diego Dalla Palma che mi piace un sacco e per me è veramente perfetto sia come colore che come tenuta è fantastico Per il contouring e l'illuminante ho usato la palette Cheek Stars di Benefit, ho usato la Hoola per il contouring Poi ho usato Sugar Bomb come blush e Cookie come illuminante, è veramente stupendo Mi vedete con il maglione ragazzi perché nonostante sia quasi aprile qui fa ancora molto molto freddo Ieri c'è stato il sole, non si stava male ma oggi c'è una specie di tempesta, io non lo so, c'è un vento fortissimo E' piovuto fino a poco fa, adesso per fortuna ha smesso però c'è un vento super super forte che lo sentivo fischiare di notte E io tra poco ho un appuntamento, sempre con lo stesso ragazzo di cui vi parlavo nella live Ho un appuntamento con questo tempo bellissimo quindi mi sono tipo super imbaccoccata a maglione Metterò il mio teddy coat, penso quello nero che non vi ho fatto neanche vedere che ho preso su Asos Ma devo stare calda perché veramente se facciamo una passeggiata penso che prenderemo qualcosina di caldo Però dobbiamo per forza appunto camminare perché ancora è tutto chiuso quindi devo essere super 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 vestita Volevo farvi vedere anche i gattoni ma onestamente non mi stanno calcolando tantissimo oggi Perché dopo che fanno la pappa sono in coma totale, in coma da crocchette Gattastellina, oh gatto Denver c'è, ciao gatto Denver dove sei? Non scappare amore mio Ciao, saluta i tuoi fan gatto Denver che ti vogliono tutti tanto bene e mi chiedono sempre di gatto Denver Sta cercando un posto dove andare a farla nanna Sei stanco amore mio? Hai sonno? Oh, ho la mia nuvoletta Sei la mia nuvoletta? Sei la mia nuvoletta piccola? Cosa fa il mio gattino tutto bianco? Dove va a farla nanna il mio gattino tutto bianco? Dove va a farla nanna? Ah ok sta vedendo Bravo gatto Denver, bravo gatto Denver Tra l'altro ho notato che Gattastellina si fa ancora le unghie sul divano Qui guardate che bel disastro mi ha fatto sul divano nuovo Nonostante onestamente le faccio anche sul grattino Però non so perché ogni tanto per ribellione le fa anche sul divano Qui non calcolate l'immondizio perché oggi è domenica quindi lunedì vengono a ritirarla Quindi oggi è giorno che la porto tutta giù in strada La metto solo davanti alla porta e la vengono a ritirare domani mattina Benissimo stavo per uscire con la plastica ancora sulla Chanel nuova Andiamo veramente veramente bene ma non la vedo mai e non sarebbe la prima volta che mi capita Eccola qua Ok Oggi indosso finalmente la mia nuova Chanelina Ok ragazzi questi sono i miei capelli in questo momento E non ci faremo nulla perché non posso farci nulla Un vento, pioggia Vabbè comunque l'ho appena salutato abbiamo fatto una passeggiata bellissima Non menzioniamo altro anche se sono in queste condizioni E stavo bevendo il tè E ovviamente il tè non lo so aveva il bicchiere era troppo piccolo Il tappo troppo grande mentre bevevo mi stavo Praticamente c'era il tè che si stava rovesciando Io non mi sono resa conto E a un certo punto mi fa occhio Io tutta con sto tè sbrodolato gli faccio Tieni la borsa, tieni la borsa E gli ho affidato la mia Chanel ragazzi Significa che mi fido Comunque vabbè A parte questo In questo momento sto cercando Il posto perché nonostante sia domenica oggi Sono riuscita a prendere appuntamento per andare a fare le unghie Che sono ancora a posto ma troppo cresciute E la mia solita non è libera per altre due settimane Quindi sto cercando un posto che in realtà dovrebbe essere qua Mi sa che l'abbiamo assaltato ed era qua Numero 120 Devo trovare Allora 114 Deve essere 116 Ah eccolo Nails Ok ci siamo Eccoci ragazzi stiamo Stanno togliendo lo smalto che avevo Farò giusto una cosa super semplice Nude Tra l'altro ho inzuppato con la pioggia la mia nuova Chanelina Ma dettagli ragazzi Intanto almeno faccio le unghie che sono contenta Che erano veramente un disastro Zottare i miei capelli in questo momento Non ridete per la mia mascherina Ma ho dovuto prendere quelle per bambini Perché le FFP2 Appunto quelle grandi Non mi stavano E alcuni di voi mi hanno consigliato quelle da bimbi E ho preso esattamente quelle Però appunto Questo è con il gattino unicornoso Adoro Vabbè ragazzi I miei capelli veramente nei comment Ma Questa è l'Olanda I miei capelli continuano ad essere un disastro Ma non facciamoci caso Comunque sono molto contenta Ho fatto le unghie Ve le faccio vedere tra poco a casa Che ve le faccio vedere meglio La situazione Fu un freddo terribile Ragazzi Non potete immaginare Ma Questa è una situazione In questo momento Freddo Vento fortissimo E sono praticamente l'unica persona In giro Eccomi a casa Gattoni In realtà sono Appena scesa un attimo E ho portato giù l'immondizia Ciao amore mio Accendiamo la luce qui Che è tutto buio Ciao amore mio Ciao gattastellina Vi sono mancata Manco per niente A te si gatto Denver Si amusami Si sono sempre io Sono sempre io Ti sono mancata gatto Denver Io la pappa dai Allora qui ci sono le loro crocchette Contate Vieni gattastellina Vieni gattastellina Si che io gli do sempre la pappa in giro Per il soggiorno Magari oggi riusciamo a mangiare No questa è di gattastellina Aspetta gatto Denver Aspetta Ok vieni gattastellina Vieni gattastellina Aspetta gatto Denver Qui ragazzi c'è una lotta ogni giorno Non potete immaginare Tieni amore mio Tieni amore mio Fai la pappa Eccole qua le unghie intanto Perché le mie mani con il freddo Il vento Non guardate sono In questo momento Stanno soffrendo tantissimo Comunque questa È la nail art Che ho fatto con la polvere Chi la chiamano powder Non so esattamente che nome abbia in Italia Però appunto Da un effetto super super naturale E queste sono le mie unghie Non ho fatto allungamenti Niente Sono le mie unghie naturali Che sono super super lunghissime Non so neanche io come Però mi sta piacendo tantissimo Veramente così Con questa Con questo effetto B color Molto più naturale Rispetto a semi permanente Adoro Però forse sono un po' troppo lunghe Non lo so Sono io che non sono abituata A vederle così lunghe Boh Comunque Sono finalmente Contenta Cioè sono contenta Di avere finalmente le unghie a posto Perché prima erano veramente Oscene Ho notato una cosa Oggi Sono particolarmente contenta Bellissima giornata Cetera eccetera Però E' successa una cosa catastrofica Ragazzi Non so perché sto ridendo Mentre ve la dico Ma Vabbè a parte trucco Rovinato per la mascherina Ragazzi I capelli che Sono diventati ondulati Anche se non lo sono Prevedere la pioggia Però ragazzi E' successa una tragedia Ma veramente una tragedia La mia cianellina nuova Che oggi ho usato Per la prima volta E che ho messo Non ascoltando i consigli Che do a voi E l'ho messa Con il cappotto nero Guardate il color transfer Dopo averla messa Solo una volta L'ho visto Uscendo dal Posto Delle unghie Come potete notare Ecco così si vede Molto meglio La tasca E' già diventata scura Devo vedere Se riesco Con un latte detergente Super delicato A togliere questo colore Ma purtroppo Ho i miei dubbi Come vi dicevo Mai mai indossare Le vostre borse di lusso Chiare color pastello Con cappotti E capi scuri Perché questo è il risultato Per fortuna Ovviamente davanti E' perfetta Però non immaginavo Che solo dopo un paio d'ore Che sono stata Sì dopo solo un paio d'ore Non immaginavo Che si tingesse Già in questa maniera Adesso Si vede Non si vede Però Per esempio Così si vede Parecchio Specialmente qui In questo punto qui Il che mi distrugge Il cuore ragazzi Mi piange Veramente il cuore Ma purtroppo Si è presa Un bel po' di pioggia E un E un bel po' Di color transfer Oggi Un disastro Tè alla pesca Rinfrescante Perché ho super set Questo è un mio bicchiere Fighissimo Che ho Ho preso su Etsy Adoro troppo Starbucks con il logo Louis Vuitton Rosa Troppo troppo figo Cin Comunque ragazzi Se avete visto La diretta L'altro giorno Abbiamo parlato Un pochino Di sogni lucidi Anche perché Sto guardando La serie tv Behind Her Eyes Dietro i suoi occhi Su Netflix Che parla Di sogni lucidi E Viaggi astrali Anche se No Mi avete detto Che i sogni lucidi E i viaggi astrali Sono due cose In realtà Abbastanza diverse Che io Tendevo Un po' A Accumunare Cioè Tendevo a pensare Che fossero più o meno La stessa cosa Comunque è stato super interessante Perché alcuni Mi hanno detto Contatta Quest'altro youtuber Che si chiama Miss Creamy Creamy Perché lei ne parla Spesso Dei Dei sogni lucidi Che fa E quindi sono andata Subito a contattarla È stata molto carina Perché mi ha risposto Abbiamo parlato Le ho fatto mille domande Poverina Una pazienza Perché veramente Ero super curiosa E mi ha spiegato Che lei li fa Praticamente Da sempre Che non ha Dovuto Allenarsi Per poterci Riuscire Poi mi ha spiegato Anche che Durante questi sogni Lei può decidere Praticamente Di fare Tutto quello che vuole Di parlare Con chiunque È super veramente È super affascinante Questa cosa E la invidio Un po' Per il fatto Che lei È sempre riuscita A farli Senza neanche Doversi Cioè senza neanche Dover faticare Senza neanche Dover fare nulla Ma le riesce naturale Poi invece ho parlato Con In tanti mi avete scritto Vi ringrazio tantissimo Una ragazza in particolare Una mia follower Che è stata carinissima Ci siamo sentite Tramite Messaggi vocali Su Instagram E mi ha spiegato Tanto Mi ha detto Lei invece Non è sempre riuscita A fargli sogni lucidi Nel senso che Ha dovuto anche lei Allenarsi per poterci riuscire Un po' appunto Come dovrei fare io Come devo fare io E lei mi ha spiegato Che un po' Tra l'altro Come succede In Behind Her Eyes Indietro ai suoi occhi Da serie tv su Netflix Perché praticamente Lei mi ha detto Devi La cosa che fa lei È Conta ogni tanto Tu chiediti Nella tua vita Di tutti i giorni Chiediti se stai dormendo E conta Quante dita hai Ok Lei mi ha detto Così facendo Tu creerai un automatismo Creerai un'abitudine In modo che poi Tu inizierai A farti queste Domande Anche mentre Starai dormendo E in quel preciso istante Mi ha detto Che addirittura Nei sogni A volte A volte ti conti le dita E ne hai tipo sei E mi ha detto In quel momento Lì tu ti renderai Conto che stai sognando Perché avrai già L'automatismo In testa Quest'abitudine Di chiederti Sto sognando Sono sveglia Quante dita ho Ok Sono cinque Quindi in quel momento Quando sarai nel sogno E ti verrà Questo pensiero automatico Di chiederti Sto dormendo Oppure sono sveglia Ti verrà da contare Quante dita hai Quando questo pensiero Ti verrà nel sogno Da lì in poi Puoi fare i sogni lucidi Mi ha detto Che inizialmente In realtà Non riesci a stare Tanto nel sogno Perché poi ti svegli Quindi bisogna Fare pratica Invito ancora Veramente Se c'è qualcuno Che lo fa Che sa farlo Che amici Cioè scrivetemi Perché questa cosa Mi interessa tantissimo Non lo so Sono scorpione Non lo so Ma queste cose Mi affascinano Veramente All'inverosimile Quindi fatemi sapere Ma appunto Una cosa Che sto facendo Adesso Da quando Questa ragazza Mi ha detto Di fare così Ogni tanto Nelle mie giornate Mi fermo E mi chiedo Sono sveglio Sto dormendo Quante dita ho Ok Sono cinque Che può sembrare Appunto una cavolata Però Quando riuscirò A farlo Talmente tanto Che sarà automatico E poi lo farò Anche nei sogni Lì Riuscirò finalmente A fare il mio primo Sogno lucido Quindi E' proprio una Una specie di missione Che mi sono posta Adesso E voglio assolutamente Riuscirci E tra l'altro Io ho iniziato a vedere Dietro i suoi occhi Su Netflix Che neanche sapevo Parlasse di questo Ma me l'avevate consigliato voi E quindi mi sono detto Ok sapete i miei gusti Quindi sicuramente mi piacerà E infatti Mi è piaciuto Tantissimo Il problema È che ci sono solo Sei episodi Almeno per adesso Ma non ditemi Che la prima stagione Ha solo sei episodi Vi prego Ditemi che ne usciranno Degli altri Perché non posso Veramente Io non posso Ogni volta che Trovo una serie tv Che mi piace E vi dico Ragazzi ho trovato Una nuova serie tv Che mi piace Track È finita Cioè Quando ve l'ho detto Nella diretta Cioè Ero al quarto episodio No quinto Poi alla fine Ero al quinto E in totale Ce n'erano sei Quindi anche questa volta È successo Che appena vi dico Ragazzi ho trovato Questa serie tv Fighissima Il giorno dopo Non c'è più Praticamente è finita Quindi vabbè Però Sì molto interessante Tra l'altro Anche lì Anche in quella serie tv C'è la protagonista Che appunto Conta le dita Per sapere Se sta dormendo O se sveglia Quindi è stata una cosa Anche un po' bizzarra Il fatto di vederlo In una serie tv E poi di iniziare A farlo io Nella vita quotidiana Comunque sì Figata Figata Questo discorso Veramente Non mi ero Mai Informata Tantissimo Su ciò Ma È super 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 Interessante Vabbè Magari a voi Non interessa nulla Magari sono solo io Che sono fissata Con queste cose Il paranormale Eccetera Però è più forte di me E a proposito Della diretta Volevo ancora ringraziare Tantissimo Quelli che l'hanno seguita So che è stata una sorpresa Appunto Alle 17.30 Invece di farvi trovare Un video Mi sono fatta trovare Io lì in diretta Quindi so che Non vi avevo avvisato Quindi scusatemi Ma per la prima volta Ho fatto una diretta sorpresa Di solito vi avviso Eccetera Però fatemi sapere Se ne volete altre Perché io mi diverto Tantissimo Fallo Dio Sono super emozionata Ogni volta Però visto che Non riusciamo neanche A fare i meet up Non riesco neanche A fare gli incontri Con i miei fan Almeno Almeno le dirette Possessero una cosa carina E poi vorrei Anche continuare A giocare ai The Sims Però a questo punto Non so se andare Su Twitch A fare le dirette Per i Sims Non lo so Ditemi voi Datemi consigli Se volete altre dirette Le faccio qui Le faccio su Twitch Per voi è più o meno uguale Le faccio su Instagram Non lo so Perché ormai si possono fare Dovunque E la mia piattaforma Alla quale sono più affezionata Rimane sempre YouTube Quindi In linea teorica Io vorrei appunto Fare tutto qui Però Se è meglio su Twitch Forse potremmo pensare Di iniziarle lì Le dirette Un'altra cosa Che io volevo chiedervi Perché non so se state notando Sto filmando Sempre Solo Senza Invisalign Ormai Perché purtroppo Ve lo faccio vedere Anche se è imbarazzante Purtroppo L'Invisalign Ah una cosa che volevo farvi vedere Che ho preso questo tappetino Per la doccia Di cui sono molto fiera Perché un po' Tutta la casa Lo sto facendo Sui toni del grigio E del rosa Quindi Molto molto contenta Di aver trovato questo tappetino E anche lo stand Per la doccia Che Vabbè Ve l'avevo detto su Instagram Vi ringrazio anche qua Perché è stato super utile E me l'avete consigliato voi L'ho preso su Amazon E volevo farvi vedere Appunto Questo purtroppo È il mio Invisalign Non so se si riesce A capire in questo momento Io purtroppo Lo sto indossando Da tanti mesi Ovviamente Non dovrei Però Visto Lockdown Vari Eccetera Non sono potuta Andare a Milano E quindi Non ho potuto Fare le impronte Che devo fare Quindi non ho potuto Ordinare L'Invisalign Nuovo Questa è una cosa Che devo fare Adesso a Milano Quando scendo Però Appunto Mi ritrovo Con questo Invisalign Da secoli E bevendo Tè e caffè Si è ingiallito Tantissimo Ma proprio tanto Ho provato ad usare I cristalli Che Vi faccio vedere Sono questi I cristalli I Cleaning crystals Che ti danno Quando ti danno L'Invisalign Praticamente nella scatola Eccetera Ci sono anche questi Che aiutano Ma non tantissimo E poi Io ho convinta Di riuscire Cosa ho fatto Ho comprato Il perossido di idrogeno Che è questo qui Ok Perossido di idrogeno Al 3% Ok E il perossido di idrogeno È quello che si usa Per sbiancare i denti Quindi io che cosa ho fatto Praticamente Mi son detta Dai usiamolo Anche per sbiancare L'Invisalign Ma l'ho letto online Anche ok Quindi L'ho messo Praticamente Cioè ho messo L'Invisalign In ammollo Di una soluzione Di perossido di idrogeno E acqua Metà metà Mi sono informata Non è praticamente Però non ha funzionato Se no Magari l'ha fatto diventare Ancora più giallo Quindi Non conosco Purtroppo Altre Altre soluzioni Se avete Veramente Una soluzione Buona Per sbiancare L'Invisalign Aiutatemi Perché io Non posso Assolutamente Indossarlo Né quando Esco Con una persona Non posso Indossarlo Né quando Filmo Perché veramente È imbarazzante Sembra che i miei denti Siano gialli Che non sono gialli Per niente Perché li sbianco Sempre Cioè Però Purtroppo Se mettono Invisalign Sembrano gialli E non me lo posso Permettere Quindi per questo Fatto Lo sto indossando Anche molto Molto meno E purtroppo Rischio che i denti Ritornino Alla Posizione Iniziale Quindi Un po' Un casino Sì Devo andare Assolutamente Spero Veramente Di riuscire A scendere Adesso Ad inizio Aprile Sia per poter Andare a Trieste Sia per poter Andare a Milano Sarebbe veramente Fantastico Anche perché Che in realtà Non avrei neanche L'invisalign In realtà Perché devo Appena fare Le impronte nuove E solo poi Mi viene Spedito Anzi Probabilmente Dovrò andare Di nuovo a Milano Per andarlo a prendere Quindi ragazzi Un casino Sì Dimmi Vuoi salutare I tuoi fans Tu che sei un gatto famoso Guarda quanti peli Guarda quanti peli Ovunque Amore mio Il mio gattino Sì ho appena Messo la crema Gatto Denver Questo No no Perché ogni volta Che mi metto la crema Mi devi Leccare le dita Ma perché Non so che ti piace Però non la puoi Leccare Gatto Denver Annusa il profumo Della crema Chanel E basta Non la devi Leccare Sì ok 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 amore mio Non ti posso Neanche carezzare Perché mi lecchi Amore mio C'è bellissimo Gli è venuta Di nuovo un po' D'acne A Gatto Denver Ma adesso Non riesco A farvela vedere Sta qua sotto al vento Sì un pochino Forse la vedete Un pochino Forse la vedete Comunque sta benissimo Anche senza i dentini Anche senza i dentini Adesso il nostro gattino Si è messo a fare la nanna Perché quando va sulla sedia Significa che vuole fare la nanna Non vuole che gli rompa le scatole Quindi lasciamolo in pace E adesso mi cambio Mi metto comoda Anche perché ragazzi Purtroppo Purtroppo Ok Anche perché purtroppo Il ciclo Stavolta mi fa male La pancia Ho avuto dei dolori Anche di notte Che di solito Mi capita rara a me Cioè quando mi capita Che ho dei dolori Durante il ciclo Sono abbastanza brutti Cioè sono abbastanza dolorosi In linea generale Non li ho mai Non mi da mai Cioè non ho mai Nessun dolore Nessun fastidio Niente di niente Però Stavolta Sono un po' provata Dal ciclo Quindi adesso Adesso mi metto comoda Tolgo questi skinny jeans Che voi Generazione Z Tanto odiate Evidentemente Almeno così dicono Su TikTok Ditemi se è vero Anche in Italia Se è vero anche in Italia Questa cosa Che tutti Cioè Tutta la generazione Z Odia La riga Di lato Sui capelli E gli skinny jeans Invece i millennials Adorano Quindi Non lo so Se è vera questa cosa O almeno severa Anche in Italia Ma quanto Ho capito In America È così Comunque adesso Finalmente mi metto comoda Ragazzi Anche se ancora Non riesco a capacità Per la mia borsa Lo so che non si vede tanto Ma fidatemi Fidatevi Io lo vedo Secondo me si vede tanto In realtà Oh mio dio Ok Non dovrò mai più usarti Con un cappotto scuro Scusami Ok ragazzi Mi cambio Mi metto comoda Mi prendo Due ibuprofene Non uno ma due Perché uno non mi fa Niente Comunque Visto che mi chiedevate Nella diretta Quali saranno I miei prossimi acquisti Di lusso Molto probabilmente Saranno queste scarpe O perlomeno Sto cercando Queste Un paio simili Con il logo Sulla caviglia E Basse Sono delle ballerine Le amo Le amo So che magari A tanti di voi Non piaceranno Ma io le amo E sto cercando Di reperirle Adesso ho contattato La mia SA Qui di Amsterdam E vediamo Se riesce A trovarle Se ce le hanno In boutique Io le amo Secondo me Per la primavera Sono pazzesche Momento Skincare Sto un pochino meglio Dopo aver preso L'ibuprofene Ma davvero Oggi Non sono proprio Al massimo Delle mie forze Purtroppo Comunque adesso Tolgo il trucco E facciamo un po' Di skin care Cerco sempre Di rimuovere il trucco Non appena rientro a casa Sono sempre un po' pigra Quindi aspetto Sempre un pochino In realtà Però la cosa migliore Sarebbe appunto Non appena rientriamo Subito Struccarci E lasciarla Per respirare Pulirla bene Quindi Adesso Visto che Oggi veramente Sono super stanca Sapete che non lo faccio mai Ma userò Le salviettine Struccanti Per struccarmi Che ho tra l'altro E che uso semplicemente Solitamente Per Per pulire le mani Quando faccio Gli swatch O quando mi trucco E o per correggere Magari qualche errore Nel trucco Però Oggi Mi strucco Con la salviettina Perché Solo in casi estremi Ma quando Non sto benissimo E oggi davvero Ragazzi Era da un bel po' Che non mi capitava Di avere dolori Così forti Ma Quando mi capita Sono Parecchio debilitanti Nel senso che Faccio proprio fatica Anche se In realtà Forse adesso di sera È un pochino peggio Stamattina Non stavo così male Ma Sono un po' peggiorati Peggiorati Non lo so Forse perché Con il freddo E la pioggia Non lo so Sento la pelle Che respira È una bellissima sensazione Adesso leggo un attimo I capelli Guardate quanto è sottile La mia coda Senza l'extension Sig Mi mancano Comunque adesso Vado ad applicare Per primo Il mio contorno occhi Questo è Di Lab Care Ed è il contorno occhi Tre azioni È un gel Che sgonfia Anche Tantissimo Se avete borse Come me Spesso mi sveglio Con gli occhi gonfi E questo aiuta Tantissimo Ma idrata anche Molto molto bene E ha questo effetto Lifting Che si sente subito Quando lo applichi Che è fantastico Picchietto Come al solito Con l'anulare In modo molto leggero E poi La crema O il contorno occhi Si applica sempre Anche sotto Al sopracciglio Ma mai sulla palpebra Quindi solo Qua sotto E sul contorno occhi E poi Come al solito Quello che Mi rimane Sui polpastrelli Lo porto Sui solchi Nasolabiali E sopra Il labbro superiore Adesso Vado ad applicare Il super serum Definitivo Sempre di Lab Care E sto finendo Anche questa È la seconda boccetta Che finisco Ma è fantastico Non so se riuscite Ancora a vederlo Ma la parte superiore È una miscela Di oli naturali Molto idratanti E la parte inferiore Invece È acido ialuronico Sono praticamente Due prodotti In uno Va shakerato Molto molto bene Per attivarne La formulazione E Ne bastano Poche gocce Ma è Fantastico Io ho integrato Sia Le vitamine Nella mia skin care Che l'acido ialuronico Perché Sono molto Molto importanti Per La pelle Per idratarla E per mantenerla Giovana Quindi specialmente Dopo i 30 Secondo me È particolarmente Importante Informarsi Su Acido ialuronico E Integrare Appunto Le vitamine L'acido ialuronico Nella skin care Di tutti i giorni Fate una ricerca Google ragazzi A proposito E vi si aprirà Un mondo E questo siero Come vedete Mi piace particolarmente Perché si asciuga Subito Lascia la pelle Morbida Quindi idratata Ma non grassa Non unta E se avete la pelle mista Grassa Sapete che spesso Con sieri creme Può succedere Questo invece Si assorbe in fretta Ed è fantastico E adesso Vado ad applicare La mia crema idratante La crema con microsfere Questa ha Le microsfere rosse E quella Liftante La massaggio Per bene Ultimamente La sera Mi piace un po' Massaggiarmi La fronte Le tempie E quando applico E quando applico La skin care Perché è super Rilassante E distende Il viso Notato Quindi faccio Tipo un massaggio Da sola Non che io Sappia farli Però Vi posso garantire Che Massaggiare In questo modo Alzando le sopracciglia Andando verso le tempie Un po' Mimando Quello che fanno I parrocchieri Non lo so Ultimamente Mi aiuta Tantissimo A rilassarmi A fine giornata Quindi faccio Un massaggio Sempre verso l'alto In realtà In questa zona Così faccio Assorbire Anche i prodotti Meglio Et voilà Come al solito Vi lascio Il link A Labcar Cosmetics Qua sotto Nel box informazioni E in sovrimpressione Vi metterò Anche un codice sconto Che se volete Acquistare i prodotti Labcar Sicuramente Vi sarà utile Perché è del 40% Ed è marzo 40 Ma è attivo Solo ancora Per marzo Quindi dal primo aprile Poi non sarà più attivo E la spesa minima È di 79 euro Però ovviamente Ancora da scontare Del 40% Quindi Vi lascerò Tutto anche il codice sconto Giù nel box informazioni E adesso ragazzi Vado a guardare Un po' di Netflix E ad aspettare Che mi arrivi La cenetta Non ho ordinato Niente Di super Emozionante In realtà Solo una pokeball Ma mi andava Di mangiare Quelcosina Quelcosina Di più leggero E quindi Sì ho ordinato Era un po' indecisa Tra sushi E una pokeball Anche se non c'è Tantissima differenza Più o meno Gli ingredienti Sono quelli Però alla fine Ho optato Per una pokeball Qui c'è Qui c'è Gata Gattastellina E così scura E così scura Cioè sono Che sto trovando Benissimo Con questa combinazione Uso il Revitalash Che ha l'applicatore Così a pennellino E forse No Non penso di riuscirci Guardandomi nel monitor Della videocamera Ma vado ad applicarlo Proprio sulla base Delle ciglia In questo modo E vado anche A premere Un pochino Sull'attaccatura Non so se questo È il metodo Corretto Ma è il metodo Che uso io E funziona Quindi non ho intenzione Di cambiarlo Stessa cosa Naturalmente Dall'altra parte Adesso Prendo Il siero Di hair burst Questo è Il lash And brow Enhancer E vado Questo invece Ha uno scovolino Che è simile A quello Del mascara Però naturalmente Il prodotto È in gel E trasparente E questo Vado A stenderlo Invece Su tutta La lunghezza Delle ciglia Non mi concentro Tantissimo Sulla base Ma appunto Vado Sulle lunghezze Fino alle punte E lo applico Sia da sotto Che poi Da sopra E poi Visto che il siero hair bar Sta a questo scovolino Ed è studiato Sia per le ciglia Che per le sopracciglia Vado Ad applicarlo Appunto Anche sulle sopracciglia Non che io abbia Bisogno di Renderle più folte O di rinforzarle Perché le mie sopracciglia Sono già Super folte Super lunghe Ma Visto che Spesso Faccio La laminazione Secondo me Dargli un po' Di nutrimento In più Male non fa Ok Adesso Sì Che abbiamo Concluso La skin care Routine Lash E brow Care Routine Adesso aspetto La cenetta Nel frattempo Stavo leggendo I vostri commenti E me ne è saltato All'occhio uno Che è questo Nicole dovresti fare Più spesso Le live Qui su youtube Adesso sto guardando La replica Purtroppo oggi Non ce l'ho fatta A seguirti Ma ti sto seguendo adesso E ti preferisco Nella live Anzi mettiamole Anche coricino Ok E mi ha colpito Il fatto che Questo commento Abbia 49 pollici in su E dice Ti preferisco Nella live Questo mi fa pensare Che forse dovrei davvero Farne di più Di live Il fatto che Siete così In tanti a pensare Che non lo so Mi preferite Nelle live Piuttosto che Nei video Non lo so Forse perché sono più spontanee Si vedono Si vede in diretta Come reagisco Quando mi fate una domanda Eh sì Sono più Sono più spontanee Mi vedete molto emozionata In realtà nelle live Perché Io sono in realtà Sono una timida Nella vita reale E quindi Quando filmo I video E sono da sola Naturalmente Non mi rendo esattamente conto Che siate così in tanti Poi a seguirmi Noi invece In live Vi vedo Lì Vedo il numerino Vedo i vostri commenti E quindi sono Anche un pochino Appunto Emozionata Impanicata Nelle live Però Allo stesso tempo È bellissimo Perché spesso Quando registro i video Penso sarebbe molto bello Essere in live In questo momento Perché potrei avere In diretta Le vostre domande No E purtroppo Non è così Quindi durante le dirette È bellissimo Perché riusciamo Ad interagire In tempo reale Cioè voi siete lì E io sono lì Nello stesso momento Non lo so Bellissima questa cosa Però appunto Sono molto emozionata Però fatemi sapere Se ne volete di più Cioè potremmo fare Tipo un appuntamento Non lo so Mensile Non lo so Sto ancora pensando Se farle su youtube Farle su twitch Magari farle Anche su the sims Oppure fare solo dirette così Fatemelo sapere voi Magari Aiutatemi un pochino Su questa cosa Perché so che voglio farle Però non so dove Magari è meglio Anche su instagram Però Secondo me Tra instagram e youtube È sempre meglio Farle qui su youtube Non lo so Ma ditemi Anche perché Su instagram Non so se si possono salvare Sì mi sa di sì Che si possono salvare Giusto Però Fatemi sapere Perché voglio assolutamente Farne di più Mi sono divertita troppo Infatti un'ora e mezza Non so neanche come Sia potuta passare Un'ora e mezza Perché per me è volato Così Cioè È stata veramente Un secondo Ed ora Troppo poco E avrete notato Si stava facendo buio Altrimenti io sarei andata avanti Con la dire Non mi sarei neanche reso conto Che stava passando il tempo Bellissimo Anche perché Se c'è una cosa Che veramente Mi manca tanto È organizzare gli incontri Con voi Incontrarvi Quando ho fatto i tour Non lo so Queste cose adesso Mi sembrano così lontane È una cosa che mi sembra Perché alla fine Ho sempre fatto incontri Con voi Da quando ho aperto il canale Nel 2009 Forse il primo incontro Forse il primo incontro L'avrò fatto nel 2010 Però Siamo lì E li ho sempre fatti Almeno uno Due Tre Cioè almeno un paio All'anno Ho sempre cercato Se ho potuto Se ho avuto l'occasione Con le aziende Eccetera Ho sempre cercato Di organizzarli E adesso Se ci penso Non mi ricordo Neanche quando era Quando è stato Il mio ultimo incontro E mi mancano Tantissimo Quindi un po' L'unico modo Che ho veramente Per sentirvi vicini Sono le dirette Arrivata Finalmente la pappa Ho ordinato Da questo ristorante Da cui non avevo mai ordinato Penso Ma non erano In tantissimi Ad essere ancora aperti Perché qui chiudono Tutti prestissimo Specialmente la domenica Quei pochi che sono aperti E questa è la pokeball Piccolina Devo dire Di solito Le prendo più grandi Riesco anche Incredibilmente a finirle Però Non sembra Niente male Ed ho preso La pokeball Al salmone Classica Quindi c'è Il riso Peccato non ci fosse La possibilità Di aggiungere anche La quinoa Che mi piace molto Nelle pokeball Ma questo ristorante Non ce l'aveva sul menu E quindi Riso bianco Mais Salmone Semi di sesamo E damame E qui sotto C'è anche l'avocado Purtroppo Non ho più le bacchette Rosa glitterate Che avevo di Hello Kitty Che avevo preso a Tokyo E quindi Si sono rotte Purtroppo Le adoravo Ma ho ordinato Ne ho ordinate Delle altre Queste Sono anche di Hello Kitty Sono meno belle Però sono comunque carine Anche se Sono molto piccoline Quindi secondo me Sono per bambini Però Ah no Mi avete detto Che questo non si fa Perché Porta sfortuna Quindi si appoggiano così Ok Bon appetit Prendo la coca zero E pappa Mentre mangio La mia pokeball Ho messo Netflix Purtroppo Non sono usciti Dei nuovi episodi Di dietro ai suoi occhi Appunto Non so se erano sei E basta O se stanno uscendo Comunque Ho visto Mi è ricapitato Proprio per sbaglio Once upon a time Che è una serie tv Che io guardavo Secoli fa Se non sbaglio Quando stavo ancora con Neil Quindi quando abitavamo Ancora qui in Olanda E pensavo che ad un certo punto Fosse finita Probabilmente Sette stagioni Probabilmente ad un certo punto Sarà finita Però io non l'ho vista Non ho visto Sicuramente l'ultima serie Quindi Potrei proprio vedermi Un episodio Di once upon a time No spoiler nei commenti Mi raccomando Perché probabilmente Poi appunto Mi vedrò avanti le puntate E in particolare Adesso che lo vedo Mi ricordo Perché non mi perdevo Una puntata Di once upon a time Esattamente Non zoom Così lo vedete meglio Mi avvicino Proprio per televisore Esattamente per lui ragazzi Per Captain Hook Ok Penso di non dover Aggiungere nient'altro Sto lavorando al computer Ragazzi Ho tantissime email A cui ancora devo rispondere Ormai lo sapete Di domenica Mi ritrovo sempre Tantissime email A cui voglio rispondere Prima che appunto Sia lunedì E che tutti arrivino In ufficio Quindi adesso Finisco di rispondere Alle email E dopo di che Mi metterò invece Al montaggio Di questo video Così appunto Lo vedrete puntuale Le 17.30 Quindi adesso Vi saluto Mia family Spero sia abbastanza lungo Questo video Vi mando Un bacio Gigantesco Vi abbraccio Forte 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 E vi aspetto domani Sempre alla stessa ora Baccio grande Ciao 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 Ciao